Una giornata di studi per certificare la sicurezza della diga di Montedoglio e condividere il percorso di sviluppo dell'utilizzo della risorsa idrica. Abbiamo visto tutta una serie di aspetti tecnici che sono stati conseguenti al ripristino della diga di Montedoglio dopo l'incidente del 2010. Quindi siamo entrati veramente nel dettaglio di tutte le cose fatte, di tutte le precauzioni prese e di tutte le modalità utilizzate anche per rispettare le prescrizioni e le norme di legge. Un'iniziativa fortemente voluta dall'ente Acque Umbre Toscane al termine degli interventi di ripristino dello sfioratore della diga stessa che ha rappresentato un'occasione di confronto, approfondimento e dibattito tra tecnici, ingegneri, docenti universitari, istituzioni locali, regionali e statali. Gli interventi di natura tecnica sono stati molto interessanti, molto puntuali e specifici ma era quello che volevamo. Quindi dall'analisi di quello che è successo quella notte fino alla ricostruzione con tutto l'iter, la catena di controllo specifica puntualissima sull'esecuzione che è stato veramente interessante fino anche a tutta quella miriade di controlli che è stato messo in evidenza dal collaudatore che poi testimoniano la grandissima attenzione che c'è su queste opere per la loro sicurezza. Una particolare attenzione è stata rivolta alla presentazione dei lavori per l'aduzione della risorsa di Montedoglio che permetteranno di rendere potenzialmente irrigabili in Valdichiana più di 20.000 ettari. Questa è una zona interessata da una palude fino a qualche anno fa diciamo e quindi evidentemente oggi è una zona che dimostra di avere un'agricoltura di alto profilo grazie appunto anche all'azienda che insiste nel territorio ma ci sono anche tantissime altre aziende agricole che stanno dando lustro al territorio stesso. Siamo molto soddisfatti perché grazie anche alla diga del Montedoglio quindi al passaggio e della condotta abbiamo anche la possibilità di ampliare le nostre reti idriche quindi siamo soddisfatti di questo.